Velocizzazione ferrovia Roma-Pescara, le vere criticità del progetto. Questo pomeriggio presentazione in provincia Pescara dell'analisi indipendente costi-benefici dell'intera opera, commissionata da Comfer, in sintesi progetto inutile, inefficace, che non porterà alcun tipo di benefici, ma solo costi. Le ragioni del no espresse con dovizia di particolari dalla professora Francesco Ramella, docente, corso di laurea a Trasporti Università Statale di Torino. Salvini qualche tempo fa ha detto che ci sono delle criticità per la fattibilità di questo progetto. Sì, nell'audizione della Camera ed effettivamente da quello che abbiamo potuto valutare ce ne sono. L'analisi di RFI, che è un'analisi che fa riferimento solo a una parte del progetto, il progetto complessivo costerà oltre 7 miliardi, è stata analizzata la prima parte che ha un valore di 2,3 miliardi. Il loro risultato è positivo, per circa 500 milioni. A mio giudizio, quell'analisi contiene numerose criticità. Intervenendo, rivedendo quelli che sono, secondo me, degli errori di valutazione, il risultato passa da parzialmente positivo a molto negativo. Quindi la mia proposta, quello che penso possa essere il futuro, è rivedere questa analisi. C'è un punto da cui partire. Si dice raddoppiamo la linea per avere più treni. Se però uno guarda la situazione attuale, vede come su gran parte della Roma-Pescara, sostanzialmente da Pescara a Tivoli, il numero di treni è molto più basso di quello che potrebbe essere servito. Noi abbiamo da 20 a 40 treni, una linea a singolo binario può portarne fino a 80. Riusciamo a mettere più treni senza fare una nuova linea, dobbiamo vedere se poi questi treni servono o meno. Il secondo elemento è, nella valutazione sono messe insieme due parti che sono indipendenti, la Pescara-Scafa e la linea che invece va verso Roma. Sono due realtà molto diverse. Mentre su Roma effettivamente il traffico oggi è già molto importante e probabilmente un potenziamento è giustificato, lato Pescara il traffico è molto più debole. Quindi la seconda proposta che io faccio nella mia relazione è valutiamo i due progetti separatamente. Si può trovare una sintesi secondo lei? Una sintesi, se c'è buona volontà, si può provare a trovare. Sicuramente il punto di partenza è molto lontano e il vero dubbio, il dubbio principale è che una nuova opera ha senso allargare un impianto, potenziarlo, normalmente ha senso se quello che esiste è quasi totalmente utilizzato, ci si avvicina all'utilizzo pieno. Oggi siamo molto distanti da questo. Fino adesso è un investimento meno di un terzo del totale, mancano 5 e più miliardi della parte più complicata e la parte più complicata ha anche quasi 70 km di ferrovie e questo non solo comporta evidentemente costi molto più alti ma anche dal punto di vista ambientale comporta nella fase di costruzione dell'opera emissioni di CO2 molto elevate che vanno molto rilevante e questo è un forte altro dubbio sull'opera.